Domenica in piazza Terra Nuova Bracciolini la misericordia locale presenta la sua storia fra passato e futuro. Domenica 17 novembre dalle ore 8 alle 13 in piazza del comune Terra Nuova Bracciolini troverete un gazebo per la misericordia di Terra Nuova. È un punto per informarsi, per conoscere meglio la storia di questa confraternita che risale al 1855 e per conoscere anche i nuovi progetti. Siamo con il governatore Emiliano Renzi, importante è che l'associazione della misericordia appartiene veramente alla città, la confraternita deve essere patrimonio di tutti. Ora che i lavori della nuova sede e della piccola chiesa adiacente stanno per terminare, vorremmo far conoscere a tutta la popolazione di Terra Nuova qual è l'importanza di questo progetto. È importante per tutti, sia dal punto di vista architettonico e sia dal punto di vista del miglioramento dei servizi che noi faremo. È importante che ci sia la partecipazione di tutti in modo che ogni cittadino si convinca che veramente la misericordia è di tutti, fa servizio per tutti, nessuno escluso e quindi vogliamo che tutti partecipino a questa nuova iniziativa. Ed essere veramente vicini alla misericordia vuol dire anche sostenere tante famiglie magari che hanno problemi, disagi, difficoltà, vuol dire venire incontro anche agli anziani, poter rispondere veramente anche alle esigenze di un servizio sanitario, sociale. Certo, la nostra associazione a conoscenza di tutti è la più antica d'Italia e noi continuiamo nel solco delle istituzioni che furono effettuate dai padri fondanti di questa associazione. Quindi il nostro è un servizio, ripeto, a disposizione di tutti, soprattutto dei più deboli, degli infermi e soprattutto delle persone che hanno difficoltà. Vogliamo che tutti in qualche modo partecipino a questa iniziativa del mattone per ricordare la partecipazione insolido di ogni persona alla costruzione della misericordia. Per saperne di più domenica mattina in piazza delle comune dalle 8 alle 13.